Pronto? Sì, buongiorno, sono Marco Fisco dell'Agenzia delle Entrate, il signor... Sì, salve, buonasera. Sì, buonasera. Allora, noi abbiamo fatto un controllo, un crociato, su di lei per quando aveva la palestra. Sì? Sì, sì. Ok, ci risulta che abbia fatto dei movimenti in nero, non so se sono delle entrate o delle iscrizioni, di 100 euro, solo che con il tempo che è passato da quando ha chiuso la palestra c'è da pagare una mora totale di 11.632,27 euro. Questo è lo scherzo. Questo è lo scherzo. No, non penso, ecco. Ma lei era solo, proprietario, era una società? Sì, Francesco sei te? Come? Sì, Francesco. Non ho capito. Sì, Francesco sei te. Che Francesco sogno? Sei un balordo. Eh, che cazzo eh? Perché che ho detto, prendi un attimo. Eh, non mi risultava una cosa del genere. È il 23? 23. Sì, eh oh, comunque complimenti è perché devo dire che ce la faccio cascato eh? Sì. Ma è di serio, solo che poi ho detto, aspetta ma questa voce la conosco. No, ma più che altro mi ha fatto schiantare il tuo silenzio. 11.632 per la sedia cinque. Sì. Il silenzio. Il silenzio. Ho detto, porca puttana, cane. Però poi l'hai ricostruita bene, complimenti eh. Cioè, entrati a Mariono suo dalla voce davvero? Sì. Dalla voce sì. Ma perché io ti conosco. Scusi. Comunque complimenti eh. Io non ero guagnino l'uomo. Sì, appunto. Ciao Manel. Ma sgamato. Marema puttana. Eh, allora. Eh, vedrai. Ad un certo punto ci ho riflettuto. Ho detto, sì eh. È nulla in forza. Dai. Eh, cazzo. Comunque lì per lì è calato il silenzio eh. Sì, sì, sì. Sì, veramente. Dopo, dopo ti rimando la registrazione. Cioè, mi stavo, stavo morendo dalle risate. Sì, rimandami tutto. Lo riascoltavo. Sette centesimi. Silenzio. Bene, bene. Rimandami tutto e girami quello a fare su WhatsApp. Vai, ok. Vai. Ciao Prante. Ciao.